Francesco Giano 9, 8, 7, 2, 3, 3, 4, queste le notizie di oggi e anche le notizie devono avere un che di spettacolo mamma mia se lo devono avere, anzi principalmente devono avere solo il che di spettacolo ultimamente Francesco Giano bentornato un uomo con la valigia sul letto come direbbe Ulio Iglesias perché è in partenza per New York esatto ci ho pensato stamattina me l'avevi detto ti avrei portato la guida ti avrei portato la guida di New York mi sono dimenticato oh niente se la vuoi comprare no te la porto tanto ormai ho capito che sei diventato di casa anche tu cioè vai spessissimo vado a Williamsburg sto sempre a Williamsburg è un quartiere che adoro eh sì 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 forse è il posto più bello che ci sia in questo momento e hai già programmato qualcosa cosa vai a fare sai cosa farai? guarda in realtà sto faccio smart working dall'afon c'è un amico che ha una casa bellissima a Williamsburg lui ogni tanto se ne va mi lascia a casa in cambio devo solo dare l'acqua al gatto ogni tanto ah non alle piante al gatto addosso gli avversi addosso e quindi è completamente il resto turismo sì non hai appuntamenti no no c'è conosco amici incontro amici colleghi torni a trovare i miei amici che ti avevo presentato di Growing Up Italian ho sentito il grande Sabino sì non ha registrazione in programma però forse lo vado a trovare che ridere eh ci sono questi ragazzi che fanno un podcast molto seguito si chiama Growing Up Italian loro sono americani ma di discendenza italiana loro hanno questo negozio di sandwich nella parte italiana di Williamsburg che si chiama Panini Shoppe esatto pronunciato un po' all'italiana li avevo messi in contatto con Franci e a un certo punto mi ero anche dimenticato che eri andato e Francesco mi ha mandato una foto di lui in casa di queste persone sì ero assieme a Lilmo Mozzarella certo da gangster però di Sorrento sì c'è un po' quella roba lì sì Lilmo Mozzarella Lilmo Mozzarella con la tuta Sergio Tacchini che parlava di scommesse e altro certo Mario Bosco sì sì e sono proprio come ve li immaginate cioè sono proprio con sembrano usciti dal padrino sì 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 dai soprano quasi dai soprano perché sono un po' più moderni hanno le tute sono un po' più sono un po' più così allora iniziamo a parlare come facciamo ogni volta che ci viene a trovare quindi una volta al mese delle notizie più discusse più chiacchierate quelle che hanno avuto un po' più spazio sui giornali questo mese non solo questo mese ma mi sembra in particolare questo mese ho sentito nominare lo sciopero tantissimo sì ne abbiamo sentito parlare perché c'è stato un po' uno scontro politico i due maggiori sindacati italiani CGL e Will avevano proclamato uno sciopero generale per tutto il giorno di venerdì 29 novembre che però poi è stato ridotto forzosamente a quattro ore totali e quindi è scoppiata un po' la polemica se si può precettare uno sciopero ovvero il ministro in questione può obbligare i sindacati o a non scioperare o a ridurre l'orario dello sciopero diciamo che ovviamente lo sciopero è sancito dalla Costituzione dal secondo dopoguerra però ci sono delle limitazioni ovviamente allo sciopero cioè da una parte c'è il diritto a scioperare dall'altra il diritto alla sicurezza a ricevere assistenza medica da parte delle persone perciò in alcuni casi il potere politico può attuare la precettazione cioè può dire ai sindacati ragazzi voi non potete scioperare o non almeno in queste modalità esempio classico i medici non possono scioperare quando gli pare piace i poliziotti non possono scioperare quando gli pare piace c'è stata poi anche la polemica voi scioperate sempre di venerdì e questo però succede effettivamente no? che io mi ricordo quando si andava a scuola era anche bello perché ti facevi il weekend lungo cioè lo sciopero però spesso cade di venerdì e immagino non sia casuale allora sì abbiamo i dati abbiamo i dati nel 2023 scusate nel 2022 il report del 2023 sono stati organizzati 63 scioperi nazionali di cui? di cui il 41% è stato di venerdì e pensavo anche di più sinceramente ma infatti sono scesi 10 anni fa quelli di venerdì erano il 69% e per oggi solo il 41% c'era più disponibilità anche perché ci attaccavi il weekend in montagna le cose così andavano a fare nella classifica il primo giorno in cui si sciopera è il venerdì il secondo io pensavo fosse il lunedì invece in realtà è il martedì perché questo ovviamente perché da una parte l'obiettivo di uno sciopero è creare disabili chiaro mettere in difficoltà gli scioperi nazionali sono soprattutto quelli dei trasporti è ovvio che le persone partono più di venerdì e quindi il disagio maggiore lo crea di venerdì dall'altra perché ovviamente chi organizza uno sciopero vuole la più alta aderenza da parte degli iscritti al sindacato dei lavoratori è ovvio che questa la ottiene più di venerdì che ne so di mercoledì la cosa interessante però è ma si sciopera di più o meno rispetto al passato secondo te si sciopera di più o meno rispetto al passato allora visto che mi fai questa domanda e visto anche un po' il motivo per cui vieni qui a raccontarci spesso ciò di cui si è parlato la sensazione fino adesso anzi i dati fino adesso su più o meno qualunque tipo di argomento quando poi vai a vedere è che succede molto meno ma se ne parla talmente tanto in più che ti sembra che succeda di più però in realtà ma dalla violenza dagli omicidi tutto quello di cui si parla succede molto meno che dieci anni fa ma la sensazione il percepito è che succede ogni cinque minuti non avrei saputo spiegarla meglio anche in questo caso si sciopera meno nel 2022 ci sono stati 1100 scioperi nel 2017 1600 quindi quasi il doppio il 50% è molto interessante la motivazione nelle analisi pagella politica scriveva la perdita della centralità delle fabbriche ha fatto sì che lo scontro tra l'operaio il lavoratore e il padrone si spostasse dagli scioperi alle aule giudiziarie cioè magari si sposta più per fare causa per risolvere non facciamo più i picchetti davanti alla fabbrica però ci vediamo nelle sedi opportune come si suol dire in questi casi ci vediamo in tribunale si sta spostando quasi il terreno dello scontro una cosa adesso mettiamo il disco stavo pensando che anche questi disagi che generano gli scioperi o perlomeno nascono appunto per generare disagio non so se hanno lo stesso effetto perché mi sembra che rispetto a un tempo prima se dovevi andare a lavorare se c'era lo sciopero era un disagio per te perché comunque andavi a lavorare adesso sento un sacco di gente che dice eh c'è lo sciopero non vengo smart walking ma vero c'è lo sciopero sai che c'è sto a casa e così tagliamo la testa al toro stiamo parlando con Francesco Giano abbiamo parlato di scioperi giustamente i lavoratori ci hanno scritto sì noi comunque lavoriamo anche il weekend ma certo era una battuta di noi partite IVA di noi partite IVA il venerdì stare a casa di venerdì fa sempre venire in mente un po' il tentativo di allungare un po' il weekend allora ci hai proposto un altro argomento che è molto interessante che è il brain rot che è questa nuova parola scelta da Oxford.com come parola dell'anno come lo pronunciavi tu brain rot brain rot perché è una O sola vuol dire ti marcisce il cervello giusto il cervello putrefatto esatto indica il presunto deterioramento dello stato mentale di una persona dovuto al consumo eccessivo di contenuti online considerati banali e poco stimolanti e fondamentalmente ci sentiamo stanchi di stare davanti al cellulare a fare doom scrolling a scrollare e non troviamo nulla di interessanti hanno dato un nome al rincoglionimento che è l'effetto appunto di passare ore e ore a scrollare il telefono esatto è una crisi tra brain e cervello e to rot in realtà la parola nasce nel 1854 c'è un libro Walden di Henry Toureau che lo dice mentre l'Inghilterra si occupa di curare il marciume delle patate quando è che ci occuperemo del marciume del nostro cervello? nel 2024 adesso è arrivato l'omento e no perché spesso anche io ricevo messaggi magari anche tu di persone che dicono ormai io sono stanco di essere sommerso da questo rumore mi sta dando in malore il cervello e io dicevo a molti ormai il lavoro di informarsi non è più il lavoro di addizione come era prima quando tu dovevi andare in edicola a trovare delle nuove fonti insomma ti dovevi preoccupare di trovare adesso devi scremare bravo l'informazione è un lavoro di sottrazione che sia informazione sulla politica o sulle tue passioni cioè devi proprio scremare per evitare che ti vada il cervello il marciume ecco se siete stanchi di questo rumore di fondo vi consiglio l'ultima puntata del podcast supernova con Frank Matano niente questo mettetevelo da parte quali sono state le parole degli anni scorsi? allora ci sono altre parole molto interessanti anche proprio di quest'anno Cambridge il dizionario Cambridge ha trovato come parola dell'anno manifest che è una tendenza che consiste nell'immaginare di raggiungere un obiettivo nella speranza che accada per visualizzarlo il pensiero magico cioè continuo a pensare a questa cosa nella speranza che succeda sui social è spesso accompagnato dall'emoticon della candelina della candela che brucia con la cera perché credo che abbia a che fare con manifest con tipo sì accendo un cero alla madonna cioè questa roba qua la parola è stata cercata 130.000 volte quest'anno perché ne hanno parlato due star diciamo Dua Lipa che ha detto io mi sono visualizzata il successo eccetera e soprattutto Simon Biles l'atleta americana che ha detto io sono arrivato dove sono arrivata perché per giorni per anni ho fatto la visualizzazione di quell'obiettivo di quell'obiettivo un'altra parola carina questa volta di Dictionary.com è Demure certo infatti io mi aspettavo anche Brat tra le parole c'è Brat esatto Demure che dice insomma c'è stato questo movimento su TikTok che è avvenuto d'estate in cui si consigliava alle persone di essere riservate nei loro comportamenti è una sorta di siamo tutti mostriamo le nostre vite allora noi facciamo questo movimento inverso in cui non ci mostriamo è singolare dirlo su TikTok cioè usare TikTok per dire una cosa in cui dici dovreste farlo meno però vabbè insomma il concetto più o meno più o meno è quello l'ultima che vai la mia preferita è qui scusa sulle pronunce il dizionario McQuire la parola è in scittification in scittification sì sta andando tutto sta andando tutto a cacca questa è la versione diciamo figa che la cognata tra l'altro Cory Doctor fantastico giornalista è il graduale deterioramento di un servizio o di una piattaforma online ah bello in scittification sì sì si sta si sta andando a rotoli questa cosa bello esatto Maurizio sì dimmi ti vedo un po' in in scittification è vero eh in questi ultimi in questi ultimi tempi su Radio DJ One Nation one in scittification come diceva giustamente Maurizio Rossato prima di andare in pubblicità siamo sempre con Francesco Giano stiamo parlando delle notizie che hanno caratterizzato quest'ultimo mese c'è anche quasi un po' una sorta di chiusura d'anno essendo essendo l'appuntamento di dicembre a proposito di chiusura d'anno siamo a un anno dal caso Ferragni sì il 15 dicembre 2023 scoppiava il caso l'Agicom pubblicava il comunicato stampa in cui diceva multa di un milione di euro a Chiara Ferragni e di 420 mila euro circa l'azienda Balocco operazione Pink Christmas lanciata il 2 novembre 2022 si lancia questo Pandora edizione speciale Chiara Ferragni e Balocco che costava 9 euro quindi tre volte in più rispetto al normale le cui vendite lasciava intendere la comunicazione secondo le accuse avrebbero sostenuto l'ospedale Regina Margherita di Torino scoppia il caso è un caso uno dei più grandi scandali della storia insomma dei social io mi sono chiesto anche quali sono stati i fattori mediatici per cui questo scandale è diventato altro da una parte le cifre ovviamente erano già contenute nel comunicato dell'antitrust un milione 30 mila la donazione sono cifre anche molto chiare nella loro banalità e nella loro al tempo stesso enormità cioè un milione è da sempre la parola che impressiona un milione è vero? cioè fosse stato 750 mila o anche un milione 340 chi è arrivato? è il mio computer pensavo che l'ama Michelle avesse lasciato le campane quelle da da suonare ogni tanto no quindi la cifra è una cifra proprio chiara chiara e fa titolo fa titolo la cifra in più è successo alla più grande di tutti è successo all'influencer più famosa importante di tutti bravissimo ci sono poi le mail che erano state diffuse già nel provadimento dell'agio con Balocco che dice queste cifre questo milione serve a pagare il vostro cascio esorbitante c'è secondo me molto interessante il fatto che due giorni dopo il presidente del consiglio attacca chiara ferragni che è una cosa che permette a quella vicenda di uscire dalla bolla magari dei giornali più di gossip di spettacolo e di entrare nelle trasmissioni tv e nei giornali istituzionali e politici e mai magari si sarebbero occupati di quella vicenda ma visto che lo scontro diventa politico iniziano anche loro a commentare quella vicenda e poi c'è ovviamente oltre al gossip eccetera il video di scuse di chiara ferragni che avviene il 18 dicembre avviene tutta una notizia ogni giorno io dico sempre i social ti perdonano tutto purché tu non chiedi scusa quel video fu giudicato disastroso dal punto di vista della comunicazione e quindi continua adesso è passato un anno e la domanda è che cosa è cambiato? si è una cosa che poi infatti ha riguardato chiara nello specifico ma un po' tutto il suo mondo cioè tutto il mondo degli influencer ha subito un po' la ripercussione di questo di questo scandalo chiamiamolo così si ci sono varie analisi ovviamente tutte da prendere con le pinze alcuni prevedono un cambiamento un po' dell'influencer marketing e i brand stanno spostando un pochino il loro budget dal punto tutto su un grande influencer a distribuisco i miei budget su una serie di creator medi piccoli in modo da diversificare l'investimento ma diversificare anche i rischi diciamo così è come se stessimo facendo trading nell'alta finanza Chiara Ferragni era investire tutto su un'azione che sembrava sicura al 100% e che poi è fallita e quindi tutti hanno perso hanno perso tutto la strategia adesso è diventata investiamo in fondi dentro i quali c'è un po' di tutto se uno muore mi copro con l'altro se l'altro va bene ci tiro fuori i soldi è un po' questo tipo di di schema sì per quanto brutale è proprio così e poi un pochino il cambiamento un po' antropologico dall'influencer classico che ti racconta il suo lifestyle a 360 gradi figura ispirazionale più a quello che viene chiamato creator che si preoccupa più di darti dei contenuti verticali più strutturati e di qualità su un determinato tema diventano più vicini al pubblicitario vecchio stile cioè al pubblicitario che deve trovare un'idea per veicolare un prodotto guarda io tra le altre cose poi conosco conosco Chiara non così a fondo da poterti fare un'analisi di com'è lei come persona però devo dire per come l'ho conosciuta mi è sempre sembrata veramente una ragazza molto educata molto gentile molto a modo tutte queste cose qua quando è successo questo fatto ho notato da osservatore esterno che la maggior parte delle persone erano contente di quello che le stava succedendo dal punto di vista economico cioè la cosa che più dava fastidio alla gente è che lei guadagnasse soldi in questo modo che magari qualcuno ancora non aveva capito o chi lo aveva capito rosicava perché c'era arrivato un po' in ritardo eccetera eccetera a me da osservatore la cosa di cui sono contento che sia un po' cambiata dopo questo scandalo è che mi sembra si sia un po' limitato l'influencer che ti vuole anche insegnare a vivere cioè io ero molto non so se il termine giusto è tollerante capisco benissimo l'influencer che ti vuole vendere un prodotto poi la deriva era diventata quasi di un po' guru cioè l'influencer che ti vende un prodotto però ti dice anche come ti devi comportare cosa devi pensare come devi parlare chi devi votare quella roba lì secondo me sono un po' felice che si sia ridimensionata ridimensionata diciamo che lei ancora non si sta riprendendo dal punto di vista tecnico anche di follower avevo visto un'analisi su Not Just Analytics lei il 14 dicembre era un tragrado dai 30 milioni di follower adesso ha avuto un crawl ha perso 150 mila follower in tre giorni subito dopo il video di scuse è scesa sotto i 20 milioni e al momento sta ancora perdendo mille follower al giorno Fedez il suo ex marito ne sta perdendo ancora duemila al giorno ancora più di lei ah pensa sì perché diciamo la comunicazione è stata ritenuta ancora falsa non genuina è un po' come se era un film in cui avevi scelto la sospensione dell'incredulità no? e di colpo non credi più sì sì di colpo si è rotto un po' quell'incantesimo lì e c'è quella che io chiamo la caduta degli dei no? cioè è come se si rompe il patto di fiducia quindi da leader imprenditrice femminista passi a influencer in cerca di visibilità e altro vi mettiamo una canzone i Basement Jacks Romeo e poi un veloce passaggio sulla gente che sta scappando sempre un po' a proposito di scappare da X allora sono arrivati tanti messaggi domande e considerazioni anche su questo su questo caso che abbiamo appena detto prima appena compiuto un anno quello del caso Ferragni Francesco Oggiano approfondirà nel suo canale YouTube sì esatto vogliamo ricordare il nome esatto Fra Oggiano Fra Oggiano l'ho appena aperto come sta andando ti dà soddisfazione? mi dà molte soddisfazioni è divertente è divertente allora rimanendo un po' nel mondo dei social c'è una diaspora c'è un fuggi fuggi da X il fu twitter la gente sta scappando per protesta? per protesta il primo è stato il Guardian il 13 novembre il Guardian ha annunciato che è un quotidiano liberale inglese tra i più prestigiosi del mondo ha detto noi non posteremo più su X e ha 27 milioni di follower il Guardian quindi è molto forte il motivo perché Elon Musk usa questa piattaforma per orientare la politica perché è una piattaforma tossica è piena di teorie cospirazioniste di estrema destra vogliamo spendere tempo altrove a seguito del Guardian altri hanno annunciato questa decisione lì è perché ci credi veramente o perché dici cazzo va che mossa figa che ha fatto il Guardian adesso devo farla per forza anch'io altrimenti io sembro che uno è rimasto indietro esatto prima c'era la foma adesso c'è la foma di uscire è certo cioè la IOMO allora da una parte c'è l'obiettivo politico che uno dice ma esco da X perché qualcosa cambi nell'amministrazione Trump negli atteggiamenti di Musk eccetera io ho dubbi non vedo una grande correlazione dovrebbero farlo tantissime persone infatti c'è Kevin Rose che ha detto ma questo è il classico copione del marketing anti Trump anche nel 2016 dopo l'elezione di Trump ci furono tantissime brand editoriale eccetera che fecero questo tipo di azioni e in realtà non serviva a molto c'è dall'altra parte la strategia editoriale o di posizionamento come dici tu un giornale un creator dice io non voglio investire su questa piattaforma preferisco spendere il mio tempo altrove il Guardian cosa sta facendo il Guardian probabilmente si sta posizionando come il capo dell'opposizione a Trump noi siamo i liberali siamo i più forti eccetera per questo faccio un'azione forte esco da X e inizio a investire su altre piattaforme infatti il giorno dopo che è uscito da X il Guardian cosa ha fatto ha detto noi usciamo da X per sostenere la nostra funzione di guardia del potere eccetera sosteneteci voi direttamente con i soldi aiutti elettori e raccolto 1,8 milioni di dollari solo in un giorno non era mai successo sì sì pensavo che i lettori gli avrebbero risposto eh amico mio cosa vuoi da me potevi stare invece no hanno fatto è una strategia editoriale che ci può stare sì ne parlavo anche al podcast con Selvaggia Lucarelli che giustamente faceva anche questa considerazione non tanto sulle aziende quanto più sulle persone che per posizionarsi dicono esco da esco da X allora intanto per esempio io non sono ufficialmente uscito da X ma è come se lo fossi perché ho smesso completamente di utilizzarlo smettere annunciandolo ti fa venire il dubbio che la tua preoccupazione principale non sia boicottare qualcosa che pensi sia sbagliato ma appunto posizionarti e poi diceva soprattutto l'alternativa cos'è andare su Instagram dall'altro filantropo di Zuckerberg cioè nel senso non è che ce ne sia uno esatto ce ne sia uno meglio dell'altro è un po' la stessa cosa e io come te ci sto ma perché leggo mi piace ma non ci scrivo mai perché la piattaforma è più tossica anche a me non mi piace per niente Franci buon viaggio grazie mille buona New York bello per il sottotto Natale sei mai stato a Diker Heights? no cos'è? Diker Heights è una zona di Brooklyn anche quella italo-americana è la zona delle ville dove il Natale lo prendono seriamente peggio che Maurizio Rossato cioè è una strada abbastanza lunga di ville tutte coperte di luminarie di Natale installazioni in giardino cioè è veramente un'opera d'arte a cielo aperto che vive nel periodo natalizio vaci la trovi sulla mia guida che però vabbè insomma te la farò avere te la farò avere a te do informazioni sotto banco posso permettermi di dare informazioni sotto banco grazie mille a Fraugiano ci vediamo nel 2025 va bene dai fa impressione dirlo Snoop Dogg su Radio DJ Umba dei Gibson Bruns dai